È stato inaugurato nella mattinata di sabato 30 gennaio a Sassuolo di Gualdotadino uno spazio di co-working creato attraverso il progetto Welltree che vede capofila la cooperativa sociale ASAD con la partecipazione di una vasta serie di partner tra associazioni ed enti del territorio e che è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Il servizio sorge nei rigenerati spazi concessi, incomodato d'uso dal comune di Gualdotadino ed è gestito da due operatori della cooperativa ASAD con esperienza nel settore dell'orientamento educativo e del lavoro che garantiranno l'apertura giornaliera. È un progetto di welfare comunitario che nasce grazie al bando e al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia che voglio oggi pubblicamente ringraziare. Nasce in questo territorio che è il territorio dei comuni della fascia appenninica in particolar modo nel comune di Gualdotadino. ASAD è capofila di questo progetto, progetto che racchiude e che mette insieme molti soggetti, associazioni, istituzioni. Voglio ricordare l'associazione Educare alla vita buona che è il partner principale del progetto. Voglio ricordare il comune di Gualdotadino che è l'altro partner importante che ha messo a disposizione gli spazi e poi le scuole, tra queste l'istituto Casimiri. È un progetto che mi sta molto a cuore e gli amici della cooperativa se lo ricorderanno perché ho seguito tutte le fasi, anche quelle di monitoraggio, ci siamo incontrati più volte. Fa parte di un progetto da bando Welfare 2018, uno dei sette grandi progetti che ha aperto una nuova epoca della Fondazione, ovvero quella di accompagnamento dei progetti e quindi non più solo l'elargizione pura di un contributo economico per la realizzazione del progetto, ma anche l'accompagnamento nel tempo e quindi una serie di sessioni formative, una serie di eventi organizzati anche nei nostri spazi della Fondazione in cui gli enti partecipanti essendo costituiti in rete si sono potuti incontrare e scambiare anche informazioni tecniche con dei nostri specialisti esterni.